Shalom, shalom, shalom. Eccoci qui con un'altra lezione e prima di iniziare voglio prima lodare e ringraziare e dare tutto il dovuto al Padre, Yahawa, nel nome di suo figlio, nostro re e rendentore, Yahawa Shai. Mi do pionori agli apostoli e anziani della Great Millstone per avermi insegnato questa verità e come sempre pace alla casa, all'Israele, all'Untezzo, coloro si cercano con sincerità la verità e ai 144.000 eletti che sono sparsi in tutta la terra. Mi saluti. Questa lezione è il titolo, ci sto ancora pensando ma sarà più o meno che a coloro che il padre ama, il padre li corregge, li punisce, sarebbe la parola più giusta. Eccoci qui, il padre punisce e correggia coloro che ama, proprio come fa un padre ai suoi figli. Faccio questa lezione perché io personalmente ho notato che qualche volta succedono delle cose a noi fratelli che siamo in questa verità. Sai, più che ci diamo dentro, studiamo le scritture, cerchiamo di osservare tutti i comandamenti, pregando, facendo il nostro meglio, ci capitano delle cose, magari qualche sfortuna, magari qualche malattia, qualche disagio fisico. Può essere qualunque cosa, ok? E ricordiamoci che noi essendo in questa verità non è la carta bianca che ci dice che sei protetto per sempre, non ti succederà niente, no? Anzi è il contrario, c'è la scrittura che dice, oh figlio mio, se sei pronto a seguirmi, sei pronti alle tentazioni, ok? Noi dobbiamo aspettare molto, dobbiamo aspettare tante prove, ok? Ed è qui che il padre ci prova e vede proprio coloro che stanno con lui, coloro che lo cercano con sincerità. Se no sarebbe troppo facile. Ora leggiamo da questo libro di Ebrei, capitolo 12, leggiamo dal versetto 6, che dice Perché il Signore correggia quelli che Egli ama e punisce tutti coloro che li conosce come figli, ok? E dice poi sopportate queste cose per la vostra correzione. Yahawa vi tratta come figli, infatti qual è il figlio che il padre non correga? Questo è bellissimo, è un libro bellissimo. Il padre ci corregge come i suoi figli. E durante queste correzioni, se siamo attenti, possiamo imparare tante cose. Proprio in quel momento quando veniamo corretti, che impariamo, che si rafforza anche la nostra fede. Ricordatevi della storia di Giobe? Giobe aveva tutto, ok? Era un ricchissimo, uno ricco. Aveva tutto, figli, famiglia, proprietà, tutto quello che poteva pensare, che poteva desiderare. Era uno che temeva il padre, faceva comandamenti, era un uomo giusto. E avete visto cosa gli è successo poi? Ha perso tutto, gli è avvenuto anche le malattie. E tutto lì è successo. Quella storia è molto importante perché fa vedere a noi come ci dobbiamo comportarci in situazioni così. Tanti passano a piccolezze, piccole cose e dimenticano subito del padre. O cominciano a sviarsi. Ora andiamo a leggere dal libro di Proverbi. Capitolo 3 e versetto 12 che dice E infatti dobbiamo fare attenzione perché quando il padre ci corregge è in quel momento che possiamo imparare davvero delle cose importanti. Queste correzioni sono per noi, per renderci più forti, più intelligenti, più osservanti e per il nostro meglio. Ce ne sono tantissimi versetti e scritture che ci danno la prova che il padre corregge, punisce coloro che ama. Punisce coloro che ama per vedere la loro fede, per vedere la loro reazione. Ecco il padre. Ok? Ora leggiamo dal libro di Ecclesiaste. Capitolo 2 e versetto 5 Mi fece giardini, parchi e vi pianta alberi fruttiferi di ogni specie. Mi costruì stagni per irrigare con essi il bosco dove crescevano gli alberi. Compra i serviti e servei, ed ebbi dei servi nati in casa, ebbi pure i gregi e almenti. Beh, questo non è il libro che cercavo. Non è il libro che cercavo. Ah, ecclesiastico che non ce l'abbiamo, non c'ho quella versione italiana. Perdonatemi, allora andiamo a leggere dal libro di Primo Pietro. Primo Pietro, capitolo 1, versetto 7 Avete capito? La nostra fede verrà provato come l'oro è provato. Provate a pensare come viene lavorato l'oro. Prima va tirato fuori dalla terra e c'è un lavoraccio dietro. Che viene in uno formato non tanto bello. Va nel fuoco, va lavorato, va, vede di tutto. Prima per diventare oro. Tutto bello nei nostri occhi. E' la stessa cosa per gli eletti. E' un terzo della casa che cerca con sincerità i padri che verranno salvati. Voi non aspettatevi una strada tutta liscia. Vi metto sempre il ricordo di Giove. Ricordatevi sempre la storia di Giove. In questa situazione vi trovate. Ringraziate i padri. E cercate di imparare qualche messaggio. Il padre è grande. Ci parla in diversi modi. Ok? E dai leggo altri due versetti per chiudere. Leggo prima dal libro di Zeccaria. Ok? Scusatemi. Sì. Zeccaria. Capitolo 13. Versetto 9. Che dice. Metterò quel tezzo nel fuoco. Ok? Lo raffinerò. Come si raffina l'argento. Lo proverò come si prova loro. Essi invocheranno il mio nome. E io li esaudirò. Io dirò. E' il mio popolo. Ed esso dirà. Il Signore Yahweh è il mio Dio. Avete capito? Questo versetto è molto importante. Vi ricordatevi che vi ho sempre parlato che un tezzo della casa di Israele sarà salvato. Ci dovrebbe essere una lezione che devo fare su questa. Yahweh B'Shem, Yahweh B'shem, Yahweh B'shem, Yехare, Shav — Lo farò. E questo tezzo, ok, passerà nel fuoco e verrà raffinato come l'accento, ok, verrà proverato come si prova l'oro, ok, comunque noi chiameremo, invocheremo il nome, ok. Del padre, il padre ci ascolterà, ma non è scritto che siamo promessi una vita tutta liscia, bellissima, ok, come fanno i cristiani, dicono prega affinché non ci succeda male, non succede questo, ma non funziona così, male e tutto questo fa parte del gioco, fa parte del percorso, ok. Io, questa lezione è ispirata proprio da quello che mi è successo oggi, è stata davvero una giornata assurda, difficile per me, Perché ho perso la chiave di casa, sono rientrato tardissimo dal lavoro e delle serie di cose ho dovuto, qualcuno mi ha aiutato ad aprire la porta, c'è tutta una serie di disastri oggi. Io all'inizio volevo cominciare a pensare, ma come mai mi succede tutto questo, anche se prego e cerco di osservare i comandamenti, poi mi è venuto in mente che fa parte del percorso nostro, Veremo rimproverati, ok, questa stessa cosa succederà a tutti coloro che vogliono seguire questa strada qui, cioè non è tutto facile così, padre ci rimprovera, ok, padre ci prova, ok. Perciò non aspettate tutto liscio e siate saggi come Giove, pregate e ringraziate i padri, lodatevi i padri in qualsiasi situazione che vi trovate, ok. Perciò c'è sempre qualcosa da imparare e ringraziare. Per chiudere questa lezione, ora vado a leggere il libro di Giove e leggo questo versetto perché questo deve essere il vostro punto di vista. Voi che volete seguire il padre davvero, che lo cercate davvero, capitolo 23 e versetto 10. Che dice, ma la via che io batto, egli la conosce, se mi mettessi alla prova, ne uscirei come oro. Ok, questo versetto deve esservi come un punto di riferimento. Dovete sapere già, ok, che il padre ci metterà alla prova. Ok, e siate pronti, siate saggi. Ok, non sciocchi come la parabola dei dieci vergini. Cinque erano saggi e cinque altri erano sciocchi. Ok, conosciamo il padre che adoriamo. Ok, cerchiamo con tutto il nostro cuore di conoscerlo. Ok, e alla fine è beato a coloro che fanno questo passo qui. Detto questo, chiudo qui questa lezione. Spero che siete stati edificati. E ringrazio il padre, lo lodo, nel nome di suo figlio, il nostro re e rednettore, salvatore Yahawashai. Mi do più onori agli apostoli e anziani della Greta Puston e pace alla casa di Israele. Shalom, alla prossima.